Buonasera, apriamo la saluta del Consiglio Comunale con il solito appena, prego. Con il capitale, di l'attività del Consiglio Comunale con la fraglia che si tratta, più con il continuo attualmente. Anche io, un il coro e il il coro, con la palma, se mi rinvoca le azanze, senti con il comune iniziale, invece iniziale, senti un fattivo colunglio, con la dinesima taglia, bene considerando il numero di presenti consiglieri a seconda in pratica passiamo al primo anno del giorno approvazione delle varie sedute precedenti precedenti del numero di presenti prezzi risposta per le tradizioni e spiegelare un po' tredici e un po' tredici e un po' tredici e un po' tredici e un po' tredici la numero quaranta sette azienda speciale serie inclusione assi e la gestione associata alle istituzioni alla scuola agli sociali interventi agli segreti agli soggetti all'incoluzione agli segreti e 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 agli segreti assegrière attrezzarmi alle istituzioni alle istituzioni suppositorio di una sede in corzione alla Camera di auf�れ alle istituzioni quindi la città alle azioni alle le mani e agli segreti disposti in appena in rischio alle le 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 La numero 50, approvazione del piano economico finanziario per le carizze della data dell'anno del 24. La numero 51, verifica quantità e quantità numerate destinati alla differenza e per le carizze. La numero 51, approvazione del piano economico finanziario per le carizze della data dell'anno del 24. La numero 51, approvazione del piano economico finanziario per le carizze della data dell'anno del 24. La numero 54, approvazione del piano economico finanziario per le carizze della data dell'anno del 24. La numero 54, approvazione del piano economico finanziario per le carizze della data dell'anno del 24. La numero 56, approvazione del piano economico finanziario per le carizze della data dell'anno del 24. La numero 57, interventi strategici per le carizze della data dell'anno del 24. La numero 57, interventi strategici per le carizze della data dell'anno del 24. Una numero 58, coincidenziale per le carizze della data dell'anno del 24. La numero 54, attraverso la data dell'anno del 24. Grazie Assessore. 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 in utilità non solo nel nostro paese, ma anche nel nostro paese. Significa anche il loro numero di altri circolanti. Per fare tutto questo c'è bisogno di, naturalmente, sempre della umaniziazione del servizio. C'è bisogno di una persona che sta al centro AMPA, c'è bisogno naturalmente dell'onise che dovrà guidare ovviamente, quindi si dovranno guidare in Italia e poi saremo aiutati da una app che, sia in maniera automatica e in maniera, diciamo, non automatica e quindi guidata, può regolamentare questo processo. Nel senso, il cittadino, un tecnologicamente molto, in salato, parlando di telefonino, che è quello di... Ma il cittadino, un anziano, che deve essere spiegato, prende e si spugnano, prendono, che non è che ci si spugnano, tornerà porre, e siccome la macchina di gioco organizzata, ma anche la macchina di gioco organizzata per il resto, è evidente che la persona anziana pagherà di quello, se chiediamo quello di che parliamo, danno pagherà per l'intervento della vostra, e però il commerciamento dell'industria sarà su tutto il mercato centrale, guadendo, comunque, con chi sa il momento di tutto il movimento che avverrà. Ho parlato di progetti sperimentali, ma è così, perché per l'innovativo sperimentale, perché almeno prima parte di centra del programma diarne, forse, accadrà per sé di quanto sarà da mio punto di vista personale, ma credo di poter parlare anche a noi di tanti cifre di questo nostro progetto, anche con tanti di voi che ne ho parlato più poco, credo che dal punto di vista è un processo nuovo, un processo culturale, un processo che però dovrà funzionare solo se ci sarà la loro anticipazione, per esempio, e anche la predisposizione e la promozione di un processo culturale. La propria condivisione avrebbe fatto migliare. A me stesso è un processo culturale, per esempio, che ci vediamo di spostare per andare al servizio di 64 anni dietro per una visita specialistica. E tra un rischio che dovrebbe imparare, non è una presenza. Questi non sono presenzi, che è presenza, sono presenzi programmati. E' evidente che il nostro cittadino andrà in piedi e leggerà città, perché domani, per esempio, mercoledì, dalle 9.30, in Milano, l'altro andrà aiuto. E' probabile, potrà essere probabile, che il cittadino possa scoprire. E' evidentemente, l'altro cittadino condivide, per andare a fare un altro servizio aereo, che può possesso servizio sanitario. In tal caso, l'alganizzazione del cittadino, messo che sia 0.40, più o meno, che non sarebbe, sicuramente, a scantire. Questa alganizzazione verrà iniziata e, naturalmente, verrà iniziata per vedere se il cittadino generale è preso. Se noi riguardiamo questo sistema, addirittura di nuovo, di condivisione, non abbiamo scoperto un mila di innovativi o noi, perché ci sono i sistemi che già funzionano, ma se solo pensiamo a comunicare in una macchina che si sforza, con la condizionale, e il lato della comodità non da poco, e in una città, come ecco, in una città, soprattutto con un capivano, e in una città, più affollare, più pensamenti praticati, da l'acqua. L'eliminazione dello stress del Parlamento è anche il posto del Consiglio del Parlamento. Per sapere, come abbiamo, alla fine, io vedete, spero che il bisogno si sarà assolutamente utile per la visita, ma come tutte le cose sperimentali, nonostante, nonostante, quindi, il tema di poter pensare, ma, diciamo, di travi, di travi, di travi, le compi sono, come che vanno a non fare, e lo dobbiamo vivere, lo dobbiamo vivere per i miei negozi, per il nostro mondo, e di questo sistema, e di questo sistema, e di questo sistema, in questa prima fase, affideremo tutto, in servizio alla nostra società interpersonale, in passata, quindi, indirerà il questionale, se ne vorrissi, anche il questionale, che verrà, per sperimentare, questo servizio obiettivo, alla comunità, e, per quanto riguarda, diciamo, una parte, fisicamente dedicata, alle cariche, tanto, in quanto, diciamo, si dimanderà, alla stessa, società, di fare, una proposta, naturalmente, alla comunità, legge, perché, naturalmente, la comunità, insieme anche, alla comunità, rispetto, all'esperimento di persone. Ora, dico, sicuramente, i consiglieri, verranno, vecchi, che, siamo, tipo, semplici, ma, i quali, parla, interimente, poter fare, evidentemente, qui, della tecnologia, un regolamento, consigliare, che, diventa, di fatto, la, 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 la quale, si moderherà, il suo setem quo, che, non è, un servizio, adegnere in termini, di trasporto, turvito, o trasporto, città, interventi, modi, autogromo. La. Ma si confiuga, mie, un servizio, specificamente, per אר. socio-culturale, che. Ov5cho, adegnere in termini, dell'導a specifico, specialista ed, SOL. ma può essere anche che il cittadino rossimale, io ce l'ho parlato di rossimale, che è un cittadino semplice, possa volare visibili nella sua programmazione anche familiare o di sui, quindi andare a parchiare il campo dietro, perché c'è la mamma mia, perché anche quella è una operazione sociale di abito, e la visione, riuscite di andare a vedere un museo, un marco, abbiamo a sapere che ci sono persone pubblici, pubblici, comprovate, tutte le comunità, tutte le comunità, tutte le comunità, cittadino, hanno e producono una vasta impressione di fortissori, di conoscenze, di conoscenze, di conoscenze, sono buoni per la salute, quindi la cittura, tutti i preghi, quindi le preghi, quindi la vengono per la salute, che fa bene anche proprio fisicamente per la salute, la vengono per le persone, quindi è un servizio che a configurarsi, è un servizio social, quindi sociale, sanitario, e il concetto è ancora un nuovo servizio di taxi per un conto. Credo che possa fermarmi qui, naturalmente mi sembra che potrebbe essere sempre in questa posizione. Grazie, faccio qua l'intervento. Passiamo alla votazione, favorevole, un'animità nel suo modo contrario nel suo assenuto, votiamo alla precedenza di seguità, favorevole, un'animità nel suo modo contrario nel suo assenuto. Passiamo al quattro ultimo e al più ultimo approvazione, regolamento del raffinamento senza miti lunghi spazi e dai comunali destinati all'intervento. Ripasso la parola alla prossima. Anche qui siamo partiti da un episodio specifico come capita nelle comunità. Si parte da una una prossima per poi provare a risolamentare tutto a livello più generale. Se partiti da una solicitazione del cittadino interpretato a Sevilla, contigo, diciamo, di contatto al cittadino attuale, contigo a questo entro, assenuto, per poi poter immaginare trovare un'animità che può stare sempre felice per tutti gli anni verti, diciamo, del nostro obiettivo. Naturalmente la principazione di questo è sempre tenuta, noi faremo anche delle cose che ci distinguono, nel nostro teneremo, una delle tante altre serie di cose sono i tempi di comunità molto diversi, guardate, quando va questa fastidia che raccontiamo, anche gli altri cittadini che vengono da altre parti di Italia, da Nuova, da Storzio, da Storzio, da Storzio, da Storzio, da Storzio, da Storzio. E' intervento delle energie in tutto il mondo per i cittadini, ci metteranno proprio i comuni, ma compartenmente la sala di Storzio, di amica, al paramento del Consiglio Comunale, anche i datori di comunità, dovranno essere vista in successo, dovranno essere oggetti di regolamentazione del Consiglio Comunale. Intanto, diamo il regno di questo regolamento per l'aria aperta e pubblico, buona promozione per insercizare chi, insieme a un cittadino, che cerca di questo, e quindi, per fare il lucio simile, poi, il Consiglio Comunale, in questo caso, per l'aria aperta e pubblico, che si sta preparando la realtà, si via anche per il salto, ma è un lavoro straordinario insieme, e, per l'aria aperta e pubblico, che si fa prima di fare un'altra cosa, fa insieme, e se il suo vanno, si è vengerato, alzare la parte della intervento, si anima in altre altre zone, per fare un esempio, e io si chiede come dirò che tutti quanti a diversi titoli e diversi quanti a partecipano al seguimento del bene comune che è bene per la nostra, diciamo sempre, essere un libro, ecco questo, parli cosa, parli, 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 parli. Parli, 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 parli.